siamo a casa un po distrutti non siamo a casa oggi in treno il povero chino è stato bullizzato bullizzato da una signora è andato a fare le coccole una ragazza che stava nei due posti a fianco a me c'era una signora di fianco e gli fa cioè mi fa ma questi cani non respirano bene io so signora poi sono geneticamente modificati non dovreste prenderli che tipo rimango un po così beh guardi sono scelte poi ho lasciato perdere tant'è che anche la signora davanti ha detto ma veramente ha detto una cosa del genere e quindi il povero chino è stato bullizzato discorso agghiacciante tra l'altro perché senza senso però non importa